Amici bentornati sul canale Novene Giri e Elaborazioni Autosportive. Allora oggi riprendiamo un discorso che avevamo fatto recentemente, l'avevamo fatto sul discorso dell'AdBlue, dell'eliminazione dell'AdBlue che creava determinati problemi su una macchina, su uno dei video recenti che abbiamo fatto. Qua oggi non parliamo dell'AdBlue ma parliamo del FAP, perché più o meno sono due cose correlate e quando una macchina arriva a un punto tale per cui è necessario intervenire drasticamente sul FAP, si apre una valutazione che ovviamente deve essere discursa con il cliente. Questa macchina è una macchina del 2014, è un gran cero con il classico motore 3000 turbodiesel da 218 cavalli, una macchina con un FAP datato, nel senso un FAP di prima generazione. Questo cliente l'abbiamo già, il nostro cliente, da diverso tempo, avevamo fatto precedentemente la rimappatura della centralina, la macchina andava perfettamente come va perfettamente adesso. Il problema è che questo cliente recentemente fa molta strada in città, cioè non fa lunghe percorrenze e quindi utilizza la macchina in città. E questo cosa succede? Si ripercuote in maniera molto negativa sul FAP, perché purtroppo non c'è nessuna spia che avverte quando il FAP sta per fare la rigenerazione, quindi spesso e volentieri coloro che hanno questo genere di vetture che fanno molta città, il FAP si sporca molto più velocemente, la macchina viene spenta magari nel durante della rigenerazione e questo crea veramente dei grossi problemi perché il filtro rimane intasato, il gasolio che serve o servirebbe per bruciare il particolato finisce nella coppa dell'olio, quindi aumentando quello che è la pressione interna del motore e diluendo quello che è l'olio con ben ovvie conseguenze a volte catastrofiche per il motore, però il problema principale è che il FAP si intasa sempre di più, è come se fosse un contenitore con tante paratie, mettiamo 10 paratie, quando arriva all'ottava paratie, alla nonna paratie, a questo punto tutto quello che c'è dietro è completamente intasato di particolato e anche facendo la classica rigenerazione forzata non si tiene praticamente nulla, quindi diciamo il discorso di fare le rigenerazioni forzate non serve assolutamente niente, buttate solo via dei soldi per niente perché poi le dovete fare in questo caso in FCA perché uno non può farla autonomamente, sì quello che potrebbe fare un cliente normale è andare in superstrada o in autostrada a dare delle belle tirate un pochino si pulisce, ma ripeto quando il FAP è intasato all'80% o oltre è arrivato a un punto in cui è irrecuperabile e questo crea in maniera principale un problema con la turbina perché nel pezzo di tubo che va dalla turbina al FAP, cioè il FAP è a valle della turbina, questo pezzo di tubo che si chiama downpipe, se il tubo non sfoga in maniera adeguata è evidente che una parte dei fumi rimangono all'interno, aumentano il calore in maniera esponenziale e la turbina ovviamente l'olio e le sedi dove girano le bronzine ne risentono fino ad arrivare al punto in cui anche la turbina parte, quindi se uno non prende il problema seriamente in considerazione a tempo debito crea un problema con il FAP e crea un problema con la turbina, quindi raddoppi i costi. Detto questo le soluzioni sostanzialmente sono due, tre anzi, la prima è quella di mettere un FAP nuovo e questo ha dei costi veramente molto molto esorbitanti perché il FAP nuovo non deve comprare come ricambio Jeep e ha dei costi veramente esorbitanti, stiamo parlando di 1500 euro e passa per avere un FAP nuovo. La seconda alternativa è quella di smontare il FAP e mandarlo, sono proprio delle ditte apposite che portano il FAP a delle temperature altissime bruciando tutto quello che è il particolato all'interno, diciamo che si recupera l'80% il 90% della funzionalità del FAP, qui non torna proprio nuovo perfetto, però si recupera una buona parte della sua funzionalità. Ovviamente anche questo non ha un costo diciamo di chissà quale entità, sicuramente è molto molto inferiore rispetto a mettere un FAP nuovo e questa è un'altra alternativa. L'ultima alternativa è quello proprio di togliere, anche se non è legale, non è diciamo legalmente parlando, non è una cosa che si dovrebbe fare, però piuttosto che buttare via il motore o buttare via la turbina è una valutazione che deve fare sempre il cliente. Noi diamo uno spettro di opzioni e poi il cliente sapendo quali sono le problematiche o i vincoli che poi alla fine sceglie. Quindi la terza opzione è quella di smontare il FAP, togliere la parte interna, queste famose celle che ci sono, all'interno, dipende poi da come è fatto il FAP, ci sono alcune versioni proprio le più anziane che avevano il FAP separato dal catalizzatore, quindi lì era molto più semplice, si poteva anche mettere un tubo diretto, togliere proprio fisicamente il FAP, se metteva un tubo diretto il problema era risolto. Nelle versioni leggermente più recenti come questa, nello stesso contenitore c'è catalizzatore e FAP, quindi quello che dobbiamo fare noi è aprire il contenitore, togliere la parte del FAP e lasciare il catalizzatore, perché senza il catalizzatore la macchina non passerebbe le revisioni. In più adesso c'è questa nuova tecnologia dove la parte che rimane vuota sostanzialmente viene riempita di questo materiale particolare, che è una specie di fono assorbente come quello che si mettono, similare a quello che si mettono nei terminali di scarico, che serve per andare a ridurre la risonanza all'interno di questo volume che rimarrebbe vuoto, si diminuisce anche leggermente questo odore acre che chiaramente senza filtro antiparticolato per forza di cose si sente dallo scarico e anche un pochino di fumosità che in alcuni casi, soprattutto se uno usa la macchina sempre sotto coppia, la prima tirata la macchina chiaramente fa uno sbuffo di fumosità perché il particolato si è depositato, poi alla prima pressione viene buttato fuori, quindi con questa specie di diciamo di sistema empirico abbiamo risolto alcune problematiche che erano proprio la risultante del togliere il FAP. Poi ovviamente, questo da un punto di vista meccanico, bisogna entrare in centennia elettronica e chiudere elettronicamente i cicli di pulizia perché se io vado a togliere il FAP e non vado a lavorare di elettronica la macchina continuerà a fare rigenerazione, quindi non ho risolto il problema. Quindi in ogni caso, e questo ne vediamo veramente decine, c'è tanta gente che si rivolge a meccanici improvvisati dove gli fanno solamente una parte del lavoro, che è una cosa veramente assurda. Se decidete di fare questo genere di lavoro rivolgetevi a centri specializzati che devono fare entrambe le cose, poi provate la macchina e la macchina non deve dare spie o sensori o cose strane attive, perché vuol dire che il lavoro non è stato fatto bene. Qui direi che anche per questa gran cero che è tutto, abbiamo ripreso i video sulle varie utilità, quindi questa non è un'elaborazione ma è una soluzione a un problema meccanico, quindi una pseudo riparazione, diciamola così, quindi anche per questo pensiamo di essere stati esaustivi. Per qualunque informazione andate sul sito www.nomeleggeri.it nell'archivio elaborazioni, dove ci sono più di 3.600 schede vettura. Quello che vi chiediamo cortesemente è di cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Per il momento è tutto, un saluto, alla prossima! Grazie a tutti!